Pieve Santo Stefano è un'antica azienda lucchese del 1700. Nel 2003 è stata completamente ristrutturata in chiave moderna e dal 2012 ampliata anche nell'ambito della ricezione turistica. L'azienda possiede 7 ettari posti ad un'altitudine tra i 75 e i 295 metri, piantumati con 1750 piante di olivi di un'età di 20 anni, da cui produce l'olio extravergine di oliva Pieve Santo Stefano Dopp Lucca, da Cultivar Frantoio, Leccino, Maurino e altre, dal colore oro con riflessi verdolini. L'impatto olfattivo è disposto su profumi fruttati di mela golden, aromatici di camomilla e basilico fresco. La bocca ha un buon equilibrio tra la cicoria e il peperoncino, abbastanza persistente. L'azienda si trova a Pieve di Santo Stefano, che è una frazione del comune di Lucca. Passaggio obbligato per il pellegrinaggio lungo la via Francigena, il territorio di Pieve di Santo Stefano si snoda tra valli e colline, sui sentieri che da Piazzano e San Macario in Piano conducono a Lucca. In quest'area sono visibili ancora oggi gli antichi rifugi e ricoveri per i viandanti, come l'ospedale San Jacopo delle Beltraie, situato proprio a San Macario in Piano, che conserva la sua struttura primitiva. La chiesa, ricostruita invece nel 1800, custodisce al suo interno le reliquie di Santa Fortunola, o Fortunola, martire romana a cui la popolazione locale è molto legata. Oltre alle testimonianze del percorso religioso, la valle ai piedi del Monte Quiesa, conserva le eleganti dimore storiche tipiche della campagna lucchese, soprattutto ville medice fatte edificare come sfoggio della potenza economica della famiglia nobiliare. Per ciò che riguarda l'enogastronomia c'è il Biroldo, che è un salume prodotto in gaffagnana con tutte le parti di minor pregio del maiale. Ha origini antichissime ed è stato anche riconosciuto come presidio slow food. Le diverse forme che può assumere variano a seconda del budello in cui viene insaccato. La preparazione inizia con la cottura dell'intera testa, del cuore, della lingua, delle cotenne e del polmone, che in seguito vengono amalgamati con sangue, sale, pepe, cannella, noce moscata e chiodi di garofano. Dopo l'insaccatura si procede nuovamente con l'allessatura del brodo in cui erano stati cotti i pezzi di carne. Il lardo rosa di gombitelli è invece lavorato e prodotto dalla famiglia Triglia, unica detentrice del metodo tradizionale tramandato di generazione in generazione per donargli la sua tipica sfumatura. Dopo la macellazione il lardo viene riposto in vasche piene di salamoie madri e aromi segreti. E' poi la lunga stagionatura a conferire al prodotto una morbidezza senza eguali. Il fagiolo schiaccione di Pietrasanta è tipico della versilia. Bianchi, dalla forma allungata e schiacciata, dal sapore tenero e dolciastro, questi fagioli sono ideali da mangiare lessi con un buon extravergine toscano o nelle zuppe.